musica 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 Trento l'India Alfa 656 all'Alfa pronto per contropista 36 l'India Alfa 656 contropista 36 la descrizione richiamo allineato e pronto la partenza richiamerà allineato 36 e pronto la partenza india Alfa 656 india Alfa 656 mi confermi usci la Sierra 1 negativo tanto di quota prima di prendere l'Eco e vada alla Valdasco scusate nessun problema vista libera finale 1 libero, finale 2 libero Grazie a tutti. L'india A656 allineato 36 e pronto la partenza. L'india A656, presso libera, vento calmo, ti informo di traffico. Romeo V8 in avvicinamento dal novembre 1 riporterà il cielo campo 4000 km. Comporto il traffico, si porterà alle braccia di sotto vento e salita l'india A656 e decolla 36 l'india A656. Take of power, set, achieve, have a same degree, airspeed is live, costango e copiato il traffico. Sì, viaggio il traffico non in vista, il costango riporterà in fronte e salita 36. Rotate, facciamolo, corro. Il traffico al momento in braccia di decolla anche lui per riporterà il sotto vento a sinistro, 3S per far quota e lascerà l'eco. Viaggio il traffico non in vista, il costango. Viene Pieri, pulire l'ara. Flaps up. Tango ridur. via contro base, linea 656, 1300 pieni in salita, stare lungo il braccio di sotto vento, sinistro 37, poi lasciare l'eco, linea 656 piegata, riporta, lasciando i braccio sotto vento, riporta, lasciando sotto vento, indietro 356 l'idea di andare dritti era quella di fare quota gradualmente, perché vedi che ci mette una vita, 114, siamo a 1.500 siamo pieni di carburante, però vabbè dai, facciamo un giretto un pelo più lungo lì india bravo golf, 2400 piedi al troverso del november 1, lascia e mantiene la zona a nord allora, temperatura ci sta, fermi, pompa 2, pressione maestabile tutto a posto, buon india bravo 574, 30, ciao avanti india bravo 574, 30, ciao avanti buon giorno, india bravo 574, 30, ciao avanti india bravo 574, 30, ciao avanti tutto copiato tutto copiato, QNH1014, ti informo di traffico elicottero Capri che mantiene il november 1, 2400 piedi e non ho copiato l'aeroporto di provenienza l'aeroporto di provenienza india bravo 574, mi confermi l'aeroporto di provenienza in 3 gradi però esterni eh, non ho ben gradiente verticale l'aeroporto di provenienza l'aeroporto di provenienza india bravo 574, riporta november 1 pronto al cambio india bravo 574, riporta november 1 pronto al cambio riporterà november 1, india bravo 574 o il 200 piedi al minuto eh quanto, ciao di bravo, Alfa Sierra, sul Sierra 1, 2300 piedi per l'ospedale Alfa Sierra Trento, vento calmo, QNH1014, si chiama il Lung, il finale del Santa Chiara, ti informo di traffico ultraleggero al momento, lasciando il sottovento sinistro 36, traffico quotidienale, Romeo e VIII, prossimo al sottovento sinistro 36, mantiene 4.000. Piatto guarda fuori, Ligia, San Siarra. 5.000, ce l'abbiamo. Ligia, 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 6.56, lasciato braccio sottovento, prossimo ad Aldeno, 2.200, con piatto traffico rotto in posta, guarda fuori, tra poco invertirà per portazione eco. Due stazioni insieme, Ligia, 6.56, copiato, riporta, lasciando il sottovento sinistro 36 per le... Sì, Ligia, 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 ho copiato il traffico, che non è in vista in questo momento, sembra rotto in posta, io sto mantenendo il lato ovest della valle, verticale di Aldeno, 2.300 in salita, troppo coinverte con la precauzione del traffico rotto in posta. non capisco perché non lo vede, è successo qualcosa qua, dopo controlliamo anche lì. E' 200 fili sotto di noi? Sotto? Sì, a ore 11. Ore 11. Ligia, bravo, 5 e 7 e 4, signor, potrebbe contattare Bolzano, 1,2,0, decima di 6, informe di procedura di armonologia. Vedi adesso? Copiato 1-2-0-6-0-0 per Voltano, la prossima è CAU Il Cautango girando in base a 3-6 per Pulsot Voltango 6 in vista, 3-6 libera dentro calmo 3-6-5-6 inverte, con il traffico dell'elicottero in vista 2-6 in salita Copiato 6-5-6 Trento informazioni via Charlie Alfa, bravo bravo, buongiorno Bravo bravo Trento, una buona giornata a voi, avanti Trento, Libia Alfa 6-5-6, ecco 2, 3-4 in salita, lascia dopo, grazie Ci sentiamo al rientro per ulteriori Padova, 1-2-4 decimali, 1-5-0, ciao Al rientro 24-15, grazie, ciao Al rientro 24-15, grazie, ciao Questa è il monte Rust? 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 Rust, ma questo qua con il traliccio? Sì Beh, monte Vediamo così C'è un osservatore, l'osservatorio E subito dietro c'è il lago Asservatorio Astronomico? Sì, vedi la cupola Sì, sì Quello giallo lo sa nella storia Sì Sotto meno il lago Esatto E lì adesso lo molle giù fino a 2005 Esatto, e adesso lo mettiamo anche a canna, così guadagniamo un po' di tempo Siamo in discesa Leggera Tutto in 5-5 Abbiamo una TAS di 116 E' una Graspi 110 C'è un po' di sud Come previsto Ma poca rova 2500 qui in direzione north Sotto Sotto Asiago, buongiorno, andiamo al TAS 5-6 Che botta che sei? Così? Sotto 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 Buongiorno, andiamo al TAS 5-6 Ultra 0 avanti Decolato da Trento Direzione Sud Adesso Traverso Terminano in discesa Sotto Saluto Chiedevi le condizioni Andiamo al TAS 5-6 Da TAS 5-6 Puoi proseguire la discrezione Al momento non è in traffico Con il sconto 1-2 Evento Ovest Sotto Sotto Andiamo al TAS 5-6 TAS 5-6 Sotto 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 Buona giornata Sotto 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 Grazie a tutti. 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 Padova, 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 Vedi che non me lo fa neanche in carica, allora vale il traffico qua davanti Vado per chiamare all'aria, ho un traffico in prua, sono a nord in Chiodo, 1500 piedi, stessa quota, lui, va Ah, solo per avvisare l'altro traffico che sono qui, è un altro traffico Aspetta, ce l'hai in vista tu, il traffico? Però sta abbastandosi Più o meno la via, non è che abbia giuntato Ma lo superiamo adesso Fox Limavig, per contact Roma, 12575, ciao 575, ciao, 1-0, Fox, 12, ciao Limavig Sta abbastando parecchio, è lui, adesso? Sì, 1-2-6 Salve la traffica Sì, è pronto 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 Adesso sarà sulla forza del Natige? Sì Guarda gente che c'è in spiaggia Guarda, guarda gente che c'è giù in spiaggia Adesso non vedo più io il traffico No, lo vedo io, stiamo andando giù, è lì sul mare Parola information, Oscar Eco Alpha Alpha Delta Ciao Oscar Eco Alpha Alpha Delta Approximo Urbano 1500 feet Alpha Delta 12325, ciao Alpha 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 Delta, ciao, grazie Lo vedi? Oscar Ianchi Zulu per la salita può contattare Bologna 13375, ciao Comunque lì non ti viene fuori neanche te, no? No, 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 ok Delta Uniform Romeo, contattato a 119.175, ciao Delta Uniform Romeo, will contact 119.5, that's correct? Negative 119.175 Will contact 119.175, bye bye Il giorno d'operazione è il Drago 149 che mantiene da ground a 500 piedi massimo 149, raggio, richiami lasciando Supera, lasciando, grazie Autopilot, disconnect Questo è Rosolina Isola Albarella si chiama Ah, Albarella, giusto È passato proprio sotto Eh Dovesti viderlo sbucare a destra? Poco Eh, è stata d'intro Indie Alfa 656, squawk 2143 2143 in box Indie Alfa 656 Indie Alfa 709, squawk 2142 Indie Alfa 709, squawk 2142 Indie Alfa 709, padre La dimostrazione è che hanno radar lì vicino, anche se non è, se è una Oh Vado Indie Alfa 709, squawk 2142 2142 Anche se è un AFIS, eh, hanno radar Negativo 2143 Quando c'è casino ti vogliono guardare Lui è 2142 Io 2143 8709, corretto e contratto a Bologna, 118, 150, ciao Indie Alfa 709, ha copiato Eh, non riporta Indie Alfa 709, ripeto, prego 8709, contatti Bologna, 118, 150 Faccio con Bologna, 118, principale 150 Un'indie Alfa 709 Un'indie Alfa 707, favore Un'indie Alfa 61, sp Questo fiume davanti? Questo è il Po, le valli sono laggiù, questo è il Po, quello lì è il Po di... mi ricordo più, poi abbiamo il Po di Volano, no, potrebbe essere il Po di Gnocca mi pare, qua il Po di Volano e il Po di Goro. Come hai detto, il primo dei tre è il Po di Gnocca, allora ci fermiamo qua. Un po di Gnocca anche per noi. Esatto, un po di Gnocca. In 10 minuti. Raggiere and altitude. Altitude will climb to 6.000 feet. Alfa Romeo, raggiere Portibro. Portibro, Papa Hotel Delta, Alfa Romeo. E raggiù è Portutolle. Qua sotto di dove c'è Cattiepolo? Non so se questa qua. Mi metto a riportare a Ravenna. Praticamente... 16 primi siamo ora a 20. ... .. Grazie a tutti. 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 No, considerando che abbiamo da fare... Grazie a tutti. 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 Fuori solo a tutti. Grazie a tutti. La romeo? No, la strada... La strada... La strada... La strada... No, la strada... 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 Sto... Lago... Lago... Chiamiamolo così... Dietro, no? Quindi... Saremo qua... E' una manna per le zanzare... Lo credo... Lo credo... Allora... Noi... Dopo dobbiamo deviare... Per questo punto... Quindi appena siamo corso... Cominciamo già a generare il mare che tagliamo... Faccio... Faccio... Stiamo a trovare il CTR di Bologna... Che è da 1.5 in su... E poi dobbiamo deviare... Per evitare... Questo CTR che va da zero invece... Perché? Autopilot... Disconnect... Autopilot... Non stas... Connected non sono capace... Di... Di pilotare sta roba... Deve far tutto da solo... Dio car... No... Faccio confusione... Ehm... 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 di giornata ragazzi sarebbe andare in Puglia aggiungi due ore e sei in Puglia neanche un'ora e mezza servia in Alfa 656 servia ricevuto richiami Cesenatico poi la passeremo con Rimini Torre grazie richiamare a Cesenatico di Alfa 656 rimini Torre quindi ci fa passare bene è lo figa che figo allora qua c'è Cesenatico breve è quello lì quello lì davanti dopo quella specie di non so se è una risaia cos'è quella roba lì subito dopo c'è Cesenatico più a nord di quello c'è Cesenatico quindi questo non è Cesenatico il primo qua sotto è a sei minuti Cesenatico è qua destra c'è la la via sovraficia di aria di classe esatto ce l'hai a ore 2 eccolo là adesso ce l'hai quasi a ore 3 tu ci sei stato? no ah ok voglio capire se è proprio erbosa erbosa come quella che vedo là però però è è Grazie a tutti. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, decimale 9, indietro al Falfacciarli, grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 6, 5, 4, 5, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2 4, 4, 2, plussen. Zero. Prepariamoci per la chiamata all'aria 119, decimali 655. Usciamo dall'altis destra più o meno in 8 minuti. Toro, buongiorno, V242 Foxtrot, richiesto la notizia di Nessun. Toro, V242 Foxtrot, runway 13, wind 110 degrees, 120, KVK, temperatura 30 degrees, U.19 QNH 1012. Capito 40, runway 13, QNH 1012, richiesto la notizia di Nessun. Questa è la francese. V242 Foxtrot, you are clear to destination, Nima India, my Foxtrot. Bologna 7, correction, Bologna 6, Zulu departure runway 13, initial climb 5000 feet, squawk 1000. Ok, Bologna 6, Zulu departure runway 13, 5000 feet, KVK 1012, squawk 1000, V242 Foxtrot. V242 Foxtrot, and you have slot time at 1010, do you need a delay? Negative, V242 Foxtrot. Roger. Hoxito. 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 Sulla costa che sennò qua balliamo com'è No, in più non è neanche bello da vedere No, in più non è neanche bello da vedere Quello è Tesaro Siamo che si balla molto meno Eh sì Eravamo in piena turbolenza Sì Eh sì sono 12 nodi ho detto prima Sì me ne stima 11 e ne abbiamo come quota ne abbiamo 10 9-10 come componente Allora Pesaro e poi c'è Fano subito dopo E qua comincia la parte bella dell'Italia È fuori dalla pianura Sì Nel tronde Via Alfa 656 ricevuto Chiudiamo sull'ora con la locale Una buona giornata La ringrazio mi conferma 1-1-9-6-5-5 la locale E che non c'è Che sono chiamata all'aria gentilmente Confermo 1-1-9-6-5-5 Non sono a conoscenza Se attiva la biga Comunque faccia le chiamate all'aria La ringrazio e molto sentire Buon lavoro Alla prossima A più tardi A dopo Allora Yeah Sfano Radio Indy Alfa 656 Un traleggero avanzato Appena rilasciato da Rimini Torre 1.800 piedi in discesa Provenente da nord Chiede informazioni Per l'avvicinamento Vediamo se qualcuno C'è il suo Madonna Ruota panoramica Guarda Guarda qua Mamma 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 Gente Buongiorno Allineata all'indiesero Romarfa Victor Allineato al 05 Vento da est 10 nodi QNH 1-0-1-2 Vento da est 10 nodi Quindi taglio il campo Sul cielo campo Entro così Così Fano radio Se c'è qualcuno In ascolto Da linea 0 Alfa Victor Per informazioni C'è intestata 05 Una barra di ferro Una piattina Sembra una Di controllo Calcurante Molto gentile Molto gentile E' proprio intestata Bastante raro Poi avanti In via Passa 5-6 No Non dà fastidio Ovviamente è un foglio E' una piattina di ferro Piccolina Proprio intestata Più o meno Al centro Ti ringrazio molto Sì ok Staremo un perro Staremo un perro Più più avanti Ti chiedo conferma Noi la prima volta Che veniamo a Fano Chiamate all'aria Corretto E in uso la 05 Affermativo Chiamate all'aria Noi stiamo usando la 05 In quanto il vento E' già est 710 nodi Semplicissimo Allora adesso Travesserà breve Il cielo campo Mille piedi E poi ci porta Il sottovento destro 05 Grazie Indievole 356 Ricevuto il decollo Indievole Maffare Per destra poi Perfetto Guardo fuori Ciao Dovremmo vedere Decollare a breve Così e poi Lugere a destra Eh quello lì Aeroporto E' proprio est Ovest Perfetto 05 Sì Non è 09 Ma quasi Che gentile Ci ha detto anche Della pettina di ferro Buongiorno 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 Il padro mi serve più Andiamo a occhio Che va bene Allora io Anche l'uscita Eh Dopo come Io ho visto che c'è una Taxiway in erba Parallela alla pista No Dal In teoria noi facciamo la 05 Usciamo in fondo A destra Penso di sì Facendo la taxiway erbosa Rientra e torni lì Dove c'è La torre Chiamiamola così Il problema è capire Se è giusto uscire lì in fondo O a metà Eh infatti Dopo lo vedremo Anche perché Magari a metà non ti fermi Anziché fare Vabbè dai Adesso vediamo Guardando la carta Sembrava la manica Lassù Però le case Sembrerebbero qua in fondo Infatti la manica Dovrebbe essere qua No? Da questa parte La vedi? Sì dove ci sono Quello è da un incendio Dovrebbe essere Esatto Quello è da un incendio Dovrebbe essere Sono chiamato all'aria In attraversamento Nord-sud del campo 760 piedi 960 piedi In salita per 1.5 Indiesera Rome Alfa-Victor Verso Sbrua 120 Ti ringrazio Ti ringrazio Noi ci portiamo Sotto 20 Sotto 20 Sotto 04 05 Pardon Copiato dall'Alfa-Victor 656 Ci sono aeroplani lì? Guarda li vedi? Sì 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 sono Fermi Ok Allora con la PPL Come quota circuito Mettiamo sempre 1000 piedi Differenza no? In realtà noi ne abbiamo Meno perché si guardi Su Trento Però come al principio Se siamo a zero qua Come altitudine Mettiamo 1900 Va benissimo Tac Qui facciamo Merto bianco Una tacca 4.500 Perfetto Vediamo la pista Ancora lì? India Sierra Rame Alfa-Victor Lascia Fano In salita 1500 piedi E contatterà Bologna Fano India Alfa 656 Chiamato all'aria Sotto vento Prossimo La virata in base Cicuto Destro 05 Bene Pompassù Tutto a posto A traffico In virata In virata base Comunichiamo Che c'è l'auto Aeroportuale Per rispezione Sta andando Fuori pista Contropista Per il punto Steso 05 Ok Prossimo La virata finale Cosa devo fare India Alfa 56 Continua l'avvicinamento Non interessiamo La zona di contatto Ottimo Grazie Qua c'è fattica a vederla La pista La pista E' perché non lo sia La taxi E' quello che volevo Evitare di far E' quella parallela Infatti Eh si Beh i cinesini Quella tutta E' mezzo cinesini Quella riga più chiara E' una bianca Tutta lunga Ok Beccata Fino a 05 In 1936 Per l'autostrada Qua davanti Per andare al casello Se l'hai Te le passi E' ancora fermati Oh c'ho il muso così Perché il vento Viene di così Incredibile Oh l'aereo Fa tutta da solo Tu non le rompi le balle Lui si mette di Vero Ti mette il naso Nel vento Non devi far casino Qua per esempio Ho beccato Dei rotori Allora Traversina Non ne sto a vedere Madonna Sei un caporato Usciamo qua Penso? Eh sì Beh Io penso Libera Adesso Andiamo a fare 5 Ecco Ecco vedi dove era la macchina Apriamo? Meglio Barra che marica Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.